Vivian Lamarck ha ricevuto il premio di poesia alla carriera a Città di Legnano Giuseppe Tidinanzi nel 2014 per la qualità straordinaria, intensa ed originalissima della sua testimonianza poetica. In effetti all'origine della scrittura di Vivian Lamarck c'è una ferita, all'origine della sua scrittura c'è un trauma, una ferita e un trauma sulla cui natura, della cui sostanza Vivian Lamarck stessa ha più volte spiegato la matrice. Si tratta della ferita, del trauma dell'abbandono, l'abbandono del padre, l'abbandono della madre che collocano nel cuore della persona una ferita che si traduce in desiderio di una ricerca inesauribile, di quella rassicurazione che possa dare finalmente il compimento. Vivian Lamarck, poetessa, esordisce nel 1981 con il libro Teresino, un titolo ambiguo, ambivalente, che dietro la felicità, la serenità del diminutivo cela un duplice riferimento. Da un lato al paese di Tesero, in provincia di Trento, dove Vivian Lamarck è nata e dove si è consumata la ferita, dove si è consumato il trauma e, d'altro canto, dietro Teresino, noi intuiamo, scorgiamo un'allusione al campo di concentramento nei pressi di Praga di Terezin, dove durante la Seconda Guerra Mondiale furono uccisi migliaia, centinaia di migliaia di bambini. Ed ecco allora che a partire da questa tragedia, a partire da una tragedia che è personale, ma che è anche storica e universale, come forma di riparazione, come tentativo di ricerca di un risarcimento, Vivian Lamarck intenta una scrittura a tratti onirica, a tratti fiabesca. Adotta il registro, le forme, gli stilemi di una poesia quasi per bambini per parlare delle cose che fanno più male. Sentite questa poesia. Mentre versava l'acqua, pensava, se non ne cadrà nemmeno una goccia, un poco ancora si ricorda di me. E versava con attenzione, versava e non cadeva nemmeno una goccia, nemmeno una, finché ne cadde una piccolissima minuscola. Quest'ultima piccolissima minuscola goccia che cade come una pietra sigilla la tragedia, quella tragedia che al di sotto della superficie potrebbe incombere nell'esistenza di ciascuno, nella misura in cui, nel momento in cui ci sentiamo non amati, respinti, rigettati, abbandonati. E da una ferita di questo genere ecco che tutte le forze dell'essere si mettono in movimento per lottare contro corrente, per cercare il risarcimento. Tutti abbiamo dentro di noi le nostre ferite e tutti cerchiamo ciò che potrà, ciò che può risarcirle. Ad un certo punto, nella scrittura di Vivian Lamarck, il grande risarcitore prende la forma, prende il nome del Signore d'oro. L'oro, il materiale perfetto, il materiale che non conosce corruzione, ciò che teniamo come segno di quel che non ci verrà mai sottratto. Ma è possibile fare esperienza, in senso metaforico, dell'oro, in questa vita che siamo chiamati a condurre e ad attraversare? Sentite che cosa dice la poesia eponima, la poesia che dà il titolo al secondo libro di Vivian Lamarck, Il Signore d'oro, che viene pubblicato nel 1983. Era un signore d'oro, un signore d'oro fino, zecchino. Per il suo carattere duttile, malleabile, per il suo caldo, dorato colore, per il suo luccichio degli occhi, era un signore molto ricercato. I corsi dei fiumi venivano deviati, fondali, scandagliati e setacciati, ma i signori che affioravano brillavano poco. Erano signori pallidi, opachi, non erano d'oro vero, erano falsi. Non avevano aurifere vene? No, le loro lente vene scorrevano quasi del tutto essiccate in direzione dei loro minuscoli cuori, a fatica. E dov'era il signore d'oro vero? Lontano, in una casa assolata, pigro e paziente, aspettando di essere trovato, in un angolino, il signore d'oro luccicava. Che cosa dice questa poesia se non la sproporzione incolmabile tra l'oggetto del nostro desiderio e quanto la realtà ci offre, ci fornisce ogni giorno, nell'ingenua speranza, nell'illusoria speranza di potere quel desiderio soddisfare. Nel cuore di chiunque viva è scritta la domanda di un signore d'oro, di una perfezione, di un compimento, di una fedeltà senza rattrappimenti, senza debolezze. Invece quel che il vivere ci dà sono soltanto palliativi, sono soltanto signori che al limite rassomigliano a quell'idolo ideale che noi portiamo scritto nel nostro cuore. Dentro questa dialettica, dentro questa dialettica che vivendo dobbiamo abitare, si consuma l'irriducibile difficoltà, l'irriducibile avventura, l'irriducibile esperienza della nostra esistenza. Vivian Lamarck ci lascia con quest'ultima poesia che adesso vi leggo intitolata Il Signore Puntino. Non potendolo vedere sempre, quando infine poteva vederlo, lo guardava moltissimo, fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo secondo. E anche dopo si voltava indietro, si voltava indietro, il Signore diventava sempre più piccolo, ormai era quasi del tutto irriconoscibile. Pure lei lo riconosceva benissimo, anche sotto forma di minuscolo puntino laggiù. Ecco l'invito, la raccomandazione e l'augurio con cui Vivian Lamarck prende contatto e ci accompagna, l'invito a cercare, a non smettere mai di cercare anche noi ogni giorno il nostro Signore Puntino, il nostro Signore d'oro.